Piano segreto di Kiev contro la Russia. È stata data tanta rilevanza a questo piano segreto di Kiev contro la Russia. Io ho letto tante fotti, ma non si capisce proprio quale sia questo piatto segreto. Ormai di segreto c'è solo che l'Ucraina ha perso la guerra ed io Serafino Massoni, questo lo vado dicendo da tanto tempo. Ok cari amici, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.